amici eccoci qua amici sportivi ben trovati a un nuovo episodio di crash royal di ignoranza andiamo a spacchettare quest'oggi barili e vediamo se riusciamo a fare anche un potenziamento direi alquanto eccellente però mi servono much money vediamo un po' e stavo per fare una cappellata di dimensioni colossali 52 monete non ci faccio proprio non mi ci puliscono neanche le chiappe andiamo a spacchettare il barile di torneo 23 ecco ancora peggio una zap una freccia un gigantone e una capanna che schifo non li faccio più i tornei amici andiamo a spacchettare questo sperando che ci dia una frega di oro 400 mi sa che non ce l'abbiamo fatta gemme bombaiolo spiritello orda e lapide no cioè raga per 40 oro non possiamo fare il potenziamento che avevo in mente di conseguenza non vi faccio nemmeno vedere che dovevo potenziare passiamo al mio secondo profilo e domani come sbloccheremo questo baule gigantone nel prossimo video vi farò vedere anche il potenziamento spettacolare passiamo al mio secondo profilo passate al secondo profilo come vedete c'è anche la notifica e vaffalasino c'è anche la notifica che è arrivato qualcosa ecco bilanciamento non so perché questa notifica me l'ha fatta vedere due volte va bene andiamo a spacchettare i barili oro 3 carte gemme zaps 7 zaps e capanna pensavo che c'era un'altra carta oro arcieri e fornocella una una fornacella oro stregone e goblin rancieri oro tesla e capanna pensavo che c'è anche la notifica non è la marca non capite male sgherri ma è il cannone mini pecca e spiriti di fuoco oro gemme come al solito cannone tesla orda e daie 5 schifosissime torri di bombaiolo andiamo a vedere che potremmo potenziare 3000 interessante 3000 parole qua mi arrivano i messaggi mi si chiude il video ma vabbè lasciamo perdere lasciamo perdere devo cambiare metodi di registrazione vediamo un poco vediamo un poco e qua non mi ispira un cavolo proprio di niente non mi ispira proprio un cavolo di niente ma potenziamo eh c'è c'è 2000 e teniamo a pazzia ec 1000 1000 torre torre invernale anche se siamo in estate eh dovrei potenziare gli arcieri però potenziamo questo perchè costa 1000 e ci da 50 exp è livello 5 onesto onesto uh 50 exp ci ne mancano 390 389 in realtà amici iscrivetevi commentate condividete se non siete ancora iscritti lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo episodio e noi ci vediamo il video